Grande, 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 male in mano, un canto con un mano Mi amiamo il passo Ora voglio vedere un cerchio Mia, a che è posto? Un cerchio, grande, grande A che è posto? Mia, a che è posto? Mia, a che è posto? Mia, 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 a chiare? Mia, Mia, a che è posto? Mia, a che è posto? Mia, Mia, a che è posto? E i punti, dentro al centro, tanti punti, tanti, tanti, cambia posto, e adesso un accesso a donno, ai punti. Tra il boccio. Grazie a tutti. Cambio, cambio, vai. E adesso fai un disfazio al tuo amico. Fai un disfazio al tuo amico. Fai colorare sopra una sua macchia. ...a realizzare il vostro tratto infiorito, partendo da...